Ciao a tutti, sono Galfred Spirbation, questa nuova rubrica si chiamerà Vita da Pub. Perché? Perché si va a simulare con scene di fantasia, o quasi, delle scene di vita vissute al pub. Se vi sentite offesi da queste scenette, beh, non resta che berci su e iscriversi al mio canale. Scusa, state chiudendo? Guarda, mi sto divertendo solo così a... Ma, guarda, mi stavo portando avanti un attimo col lavoro, giusto per la chiusura pomeridiana, verso poi la sera. Avevi bisogno di qualcosa? Ma, guarda, volevo prendermi una birretta dell'ultimo minuto. Ma, guarda, le spine non le avevo ancora finite di pulire, mi stavo facendo l'ultima birretta del pranzo, giusto per staccare un attimo e rilassarmi. Finisco di preparartela e te lo do. Ok. Ecco a te. Oh, grazie. So già che me lo terrò per tre ore, questo. Ehi, orissimo. Eh, sì, 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 sì. Sì, dai, dai. Sì, sì, sì. Ma sì, domani. Oh, grazie per questa buona birra. Ma che non si sono fatte. È l'ora di chiudere. Cosa vuoi fare? Rimanere qua dentro? Ringrazio Beach e Birra per la disponibilità, per le riprese di queste puntate di Vita da Pub. E vi invito, come al solito, ad iscrivervi al mio canale YouTube, di seguire tutte le mie pagine social, di seguire Obiettivo Film. Attivate la campanella e ci vediamo nei prossimi video. Grazie a tutti.